Simone, Vicenza, sempre i bambini, gratulazione. Siamo al Manacolo, sei. È al Manacolo. Coneno, sì, è un conosciutore. Il colore sono le tribune. Allora, vi dico, il palazzetto di Antonia ha una forma circolare ed è chiamato il panettone. Perché ha una forma, sì, ma io non cazzo il tuo amore, la leggiamo io il panettone. Saremo in un'area. Tanti amori all'angeco allora? Bocca luta. Tanti amori, no vabbè. Ok. Bocca luta. Prefetto. Grazie!